Guardando le rose, fiorite sani, io penso domani saranno a passì. E tutte le cose sono come le rose che vivono un giorno, un'ora e non più. Ma l'amore no, l'amore mio non può, dissolversi nel vento con le rose, tanto è grande che non cederà, non sfiorirà. Ma l'amore no è stata una serata straordinaria, dedicata a una persona straordinaria. Qual era Lucio Amedio? Lucio Amedio, che tutti conosciamo come il grande collezionista, gallerista, mercante d'arte, beh, Lucio aveva anche un'anima musicale. Quest'anima musicale si tradusse in un disco, ma l'amore no, pubblicato nel 1990. Proprio partendo da questo disco, da questo titolo, il musicista Giorgio Verdelli ha organizzato questa serata all'Aperia, nel parco della Regia di Caserta. Con Giorgio Verdelli c'erano sul palco Patrizio Trampetti, componente della prima nuova compagnia di Conto Popolare, e poi Lino Vairetti, mitico degli Osanna, del gruppo musicale napoletano degli Osanna. Poi con loro tanti ospiti, ospiti musicali, ma anche ospiti del campo cinematografico, come Mario Martone, come Tony Servillo, che si sono abbracciati sul palco. Oppure c'è stato anche il momento musicale con Mark Costati, grande artista statunitense, ma anche musicista. E poi tanti tanti musicisti, dall'Esposito a Tony Esposito, per un poi jam session finale con una tamurriata nera che ha divertito il pubblico, che ha battuto a lungo le mani. Magica serata per un'estate da re. Magica serata per un'estate da re.